buonasera a tutti grazie e benvenuti a questo nuovo incontro serale di del festival dialoghi di pandora rivista siamo giunti al terzo ultimo alla fine del terzo ultimo giorno il festival si concluderà domenica prossima domenica domenica dopo domani domenica 19 e in un qualche modo stasera affrontiamo uno un tema cruciale rispetto al tema del nostro festival appunto un festival che è dedicato alla nuova frontiera frontiere è anche il titolo dell'ultimo numero della nuova rivista e sicuramente dell'ultimo numero appunto di pandora che era dedicato a questo e sicuramente appunto la frontiera della tecnologia la frontiera della digitalizzazione e in particolare i tre temi che saranno al centro della discussione di questa sera cioè l'intelligenza artificiale i dati e il supercalcolo che proveremo in un qualche modo anche a vedere a capire da un lato e a vedere nel loro rapporto reciproco tra l'altro e anche nel nel contributo che possono dare allo sviluppo dei sistemi produttivi del territorio ecco questi sono temi che sono particolarmente importanti per noi e mi fa molto piacere dire che l'incontro di questa sera è organizzato in collaborazione con la fondazione ifab a fondazione internazionale big data e intelligenza artificiale per lo sviluppo umano ifab è una fonda è un'organizzazione no profit che opera all'interno del dell'ecosistema del tecnopolo di bologna voi conoscete appunto questo importantissimo progetto che abbiamo qui questa sera l'assessore colla che sta lavorando appunto ce ne ha parlato anche anche sabato scorso nell'altro incontro in cui è stato ospite il tecnopolo è un progetto ambizioso importante di lungo periodo che coinvolge profondamente appunto il territorio bolognese ed emiliano romagnolo e che in un qualche modo incarna quella vocazione di economia della conoscenza di cui abbiamo parlato oggi pomeriggio con il ministro bianchi il presidente bonaccini con il rettore ubertini rettore e anche adesso presidente del cineca di cui abbiamo anche qui sanzio bassini che è anche appunto direttore scientifico della fondazione ifab e dicevo con con sonia bonfiglioli e quindi un progetto assolutamente assolutamente rilevante quello del tecnopolo e la fondazione ifab in un qualche modo è una fondazione partecipata da un lato dall'associazione big data e da partner importanti come unipol ed eni e membri partecipanti come atos e fondazione enel tamperi financial group e ora anche crif e quindi appunto una una realtà importante pubblico privata una realtà che in un qualche modo si pone l'obiettivo di realizzare appunto intorno all'ecosistema del del tecnopolo un osmosico il territorio di promuovere progetti di ricerca interdisciplinari sui temi del dell'intelligenza artificiale della computazione ad altre prestazioni e sui big data con l'obiettivo di trasformare il sistema economico e sociale e la fondazione la missione della fondazione ifab è di promuovere appunto progetti di ricerca metodi scientifici innovativi con l'obiettivo appunto di uno sviluppo umano sostenibile opera in molti campi di ricerca come il cambiamento climatico i materiali le scienze della vita la medicina di precisione e i sistemi complessi ha un un board scientifico internazionale di primo ordine con nomi di grandissimo livello e che appunto si occupa dello sviluppo della scienza e della tecnologia ai scenari di lungo termine in risposta ai nuovi cambiamenti dello scenario ecco appunto con in collaborazione con con fondazione ifab questa sera noi proveremo a proporre una una riflessione appunto su queste su queste tematiche che sono dei 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 driver dei facilitatori di cambiamento assolutamente cruciali per il nostro futuro ecco però spesso in un qualche modo sentiamo queste parole che sono sicuramente evocative che in un qualche modo ci danno l'idea di qualcosa che è importante che sta succedendo ma molto spesso non si capisce fino in fondo nel discorso pubblico poi effettivamente cosa implicano cosa cosa di cosa si parla quando si parla di questo tipo di tecnologie quali sono le implicazioni quali sono le trasformazioni che portano appunto per il sistema economico e sociale ecco oggi proveremo a capirlo molto capirlo un po più da vicino e proveremo a capirlo con anche con due esperte di primo ordine del tema dell'intelligenza artificiale la professoressa Rita Cucchiara professoressa ordinaria di sistemi di elaborazione dell'informazione all'università di modena e reggio emilia e la professoressa michela milano anch'essa professoressa ordinaria di sistemi di elaborazione dell'informazione all'università di bologna ma entrambe appunto esperte di altissimo livello del tema dell'intelligenza artificiale quindi da prospettive diverse le loro due relazioni ci aiuteranno a capire meglio questa tematica peraltro ricordo anche che la professoressa Cucchiara e la professoressa Milano sono anche parte del gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della strategia sull'intelligenza artificiale quindi è molto importante appunto per noi averle qui questa sera e poter ascoltare e capire un po' meglio ecco io partirei proprio dalla professoressa Cucchiara di cui tra l'altro ricordo anche il recente libro l'intelligenza non è artificiale uscito per Mondadori e che è anche disponibile qui all'ingresso se poi sarete interessati diciamo ad approfondire questi temi ecco io le chiederei da un lato un'introduzione cioè di provare innanzitutto a capire cosa si intende quando si parla di intelligenza artificiale ecco questo titolo appunto è interessante l'intelligenza non è artificiale quindi perché e quindi provare in un qualche modo a capire cosa parliamo quando quando usiamo questo termine e quando affrontiamo questo tema e poi dall'altro le chiederei di introdurre un tema di cui probabilmente parleremo anche in seguito in questa serata cioè quali sono le ricadute quali sono le implicazioni appunto per i sistemi produttivi e in particolare anche per il nostro territorio appunto che può contare storicamente su un sistema manifatturiero di molto importante molto molto denso e con delle delle zone di eccellenza di livello importante ecco non prendo altro tempo e lascio appunto la parola alla professoressa Cucchiara per entrare appunto nel vivo del nostro argomento di questa sera grazie di nuovo ai nostri ospiti e grazie a tutti voi grazie e buonasera a tutti vi ringrazio intanto per l'invito e per la possibilità di tornare a Bologna anche se da Modena ci vengo molto spesso ho visto che la mia storia su intelligenza artificiale è nata effettivamente qua dove ho fatto il mio dottorato di ricerca molti anni fa è sempre un piacere ritornare vedere le amiche e gli amici con cui lavoriamo giornalmente stavamo scherzando prima vederci di persona perché è un periodo in cui Michela ci sentiamo regolarmente ma ci vediamo soltanto dalla dalla pancia in su quindi è finalmente possibile anche avere queste modalità di interlocuzione umane che sono così importanti per noi tant'è che ne abbiamo sempre più bisogno ed è anche per questo che diciamo la parola intelligenza non artificiale per me aveva un significato doppio quello di far capire che le nostre sono tecnologie tecnologie ingegneristiche che non hanno niente che vedere né con la magia nera né con altre strane stregonerie né con le euristiche più strane ma che sono fatte progettate da intelligenze umane controllate da intelligenze umane e così lo dovranno essere sempre di più e anzi per l'europa ne è diventato un aspetto più importante e che devono essere a servizio dell'intelligenza umana e a servizio della della nostra vita ed è quello poi che ci spinge tutti i giorni a fare ricerca a lavorare in questi settori che diciamo lo dico sempre con molto entusiasmo anche se da 30 anni ci studio ci lavoro non mi sono ancora stancata e quindi è una è un aspetto positivo e io penso che ormai non ci sia nessuno in giro per l'italia o per l'europa per il mondo che non senta parlare di AI di artificial intelligence quindi mi sembra quasi superfluo a volte darne delle definizioni di base però penso che in realtà sia importante fare capire che veramente questo parliamo di tecnologie tendenzialmente tecnologie informatiche software ma che sottendono anche dei sistemi hardware importanti le auto autonome i robot i droni tutto quello che abbiamo che sono nate ormai 30 40 anni fa ma che soltanto negli ultimi dieci anni sono diventate una realtà concreta qualcosa che non è soltanto un puro diciamo paper di ricerca ma è diventato un prodotto un prodotto che io in mano voi avete in tasca e che comunque gestisce controlla la nostra vita in positivo e ci dà degli strumenti per vivere meglio ogni giorno allora io parto sempre perché per me facile così è abbastanza anche neutro con la definizione che è stata data nel 2018 dalla comunità europea perché è una definizione molto interessante in cui si definiscono i sistemi intelligenza artificiale quei sistemi che tendenzialmente sono capaci di fare tre cose acquisiscono informazioni dall'ambiente vuol dire elaborano dati ormai per noi dati sono tutti ambiente vuol dire la visione il linguaggio i dati dell'internet of things i dati economici i dati medici e tutto quello che abbiamo ha comportamenti intelligenti e questa è la definizione più difficile visto che anche la nostra intelligenza umana è ben difficile da essere definito in modo univoco però diciamo ha un modello di ragionamento che sono simili a quelli di ragionamento biologico che noi conosciamo e la terza cosa take in action cioè è capace di intraprendere delle azioni che sono controllate e gestite da questa diciamo dall'unione del fatto di aver elaborato in modo intelligente dei dati del mondo esterno la comunità europea però aggiunge altre due cose molto importanti che questi sistemi sono nati per compiti specifici e quindi non sono necessariamente l'intelligenza artificiale generalizzata e con un certo grado di autonomia questo è un argomento davvero molto importante cioè quella che soprattutto in italia in europa noi abbiamo l'intenzione di lavorare in modo tale che anche il sistema autonomo possa avere una sopravvisione che è nostra di tipo umano e fatta per il lavoro dell'uomo ecco questa è una definizione che come dicevo è molto generale però che poi ci permette di andare nel fatto che questi sistemi alla fine non sono altro che dei prodotti software che servono per controllare macchine ma che ci servono nella vita quotidiana in moltissimi ambiti talmente tanti ambiti che adesso tutti i paesi del mondo praticamente stanno scrivendo o hanno scritto una propria strategia anche per definire quali sono le priorità in cui si intendono portare gli investimenti perché ovviamente i fondi ci sono ma non sono abbastanza per tutti per capire quale sono le linee guida e devo dire questa è un'operazione molto importante che in questo momento il governo ci ha chiesto di fare devo dire il governo ce l'aveva chiesto di fare anche tre anni fa poi è da tre anni ormai che stiamo andando avanti e abbiamo scritto abbiamo iniziato il gruppo di lavoro nel 2000 alla fine 2018 poi è stato scritto la prima versione della strategia italiana su intelligenza artificiale che trovate in rete è stata pubblicata in ottobre del 2020 poi adesso covid nuovo governo i fondi del pnrr fanno sì che giustamente adesso ci hanno richiesto di avere un aspetto molto più operativo per arrivare a degli investimenti che possono concretizzarsi sul nostro territorio italiano in un modo in un modo efficace ecco perché adesso se ne parla tanto tempo fa magari era soltanto nelle nostre nicchie dei nostri laboratori di ricerca quello che vi dicevo prima perché adesso funziona cioè questo è l'unico motivo perché non è più soltanto una chimera ma la disponibilità di tantissimi dati la disposibilità di macchine come le gpu che una volta invidia faceva solo per i videogiochi ma che adesso per noi sono fondamentali perché nell'ambito del machine learning e il deep learning sono gli aspetti ineduttabili e chi ha la potenza di calcolo può farlo e noi siamo qua estremamente fortunati perché c'è sanzio bassini ma soprattutto perché bologna l'italia ha una potenza di computazionale importante e non solo c'è a servizio delle scienze ma c'è a servizio delle nostre industrie e le nostre industrie stesse stanno andando in questa direzione di acquidi avere della potenza computazionale interna quindi l'unione degli algoritmi l'unione dei dati e della potenza computazionale ha fatto sì che queste tecniche diventino qualcosa di concreto tanto per essere anch'io concrete non essere soltanto al generale vi dico che cosa ho fatto questa settimana oggi ho incontrato l'olimpus olimpus famosa azienda che faceva perché non fa più macchine fotografiche nel giro di due anni covido non covip permettente e si è trasformata in un'azienda che fa medical imaging cioè che utilizza i suoi strumenti di acquisizione di immagini a servizio di ospedali e nel mondo del mondo sanitario e quindi si sta specializzando in algoritmo intelligenza artificiale per analisi automatica di nel caso specifico di gastroscopie o comunque di immagini del nostro corpo umano per in ausilio ai medici. Ieri sono stati in Ferrari perché con Ferrari lavoriamo non tanto soltanto sull'auto autonoma ma anche soprattutto sull'interfaccia uomo veicolo perché sapete benissimo che un'azienda come Ferrari non è che voglia proprio per forza l'auto autonoma però sempre di più un utente di Ferrari vuole che l'auto si parcheggi da sola o comunque che riconosca in automatico chi è che sta guidando magari anche semplicemente per dargli del comfort come spostare il seggiolino come preferisce. Sono tutte applicazioni queste che adesso sono basate sull'intelligenza artificiale. Lunedì invece sono stati in Florim, non è che faccio apposto davvero, sono stata in una grandissima azienda ceramica che stanno rifacendo tutta una nuova linea di produzione all'interno di una zona enorme bellissima e pulitissima. Ci sono 80 robot e 20 persone che li controllano che fanno tutta la linea per la produzione nuova di ceramica e naturalmente hanno bisogno di stanno creando su una divisione interna dell'intelligenza artificiale per poter gestire, ottimizzare la produzione controllata dagli esseri umani, controllata dalle persone che ci sono ma con l'ausilio di informazioni in più perché se adesso riescono ad acquisire tutti i dati, dei sensori di tutta la linea di produzione possono anche capire delle situazioni migliori. Vi faccio due esempi concreti, ci sono tutti i carrelli elevatori che girano da soli, naturalmente sono controllati da laser, sono contratte dei sistemi cui mi occupo di visione artificiale che però hanno delle traiettorie impostate. Un'intelligenza artificiale un pochino più efficace permette, se non ci sono persone in quel momento, di magari fargli fare la diagonale invece di fare un giro lungo e quindi di risparmiare energia, di rendere tutto il più sostenibile e di risparmiare anche del tempo. Ci sono problemi grossi di logistica perché i camion per uscire dall'azienda devono chiedere a Google, la Google Map, se in questo momento il traffico è giusto o non è giusto. Vorremmo anche pensare di poter fare, tra l'altro questo è un progetto, lo dico un po' di pubblicità perché tramite IFOB stiamo iniziando a studiarlo, l'Università di Modena, di Bologna, di Parma Assieme, diciamo tutta la regione, per capire se possiamo dare dei servizi all'ausilio di traffico alle aziende che così possono muoversi in un modo più consapevole avendo le proprie informazioni e mantenendosele. Vi ho fatto questi esempi ma potrei andare ancora avanti e le faccio del nostro territorio perché noi abbiamo un territorio magnifico dove questi esempi diciamo direttamente entrano nel vivo. Tutto il mondo manifatturiero non ha soltanto bisogno di un'intelligenza artificiale che gli ottimizzi la produzione ma ha anche bisogno di un'altra cosa che a me piace moltissimo che è l'intelligenza artificiale creativa. Così come lo siamo creativi noi, noi possiamo in qualche modo trasferire delle competenze generative all'intelligenza artificiale. Adesso magari entro un pochino più nei dettagli. L'intelligenza artificiale ha mille facce, sono mille tecnologie che spesso collaborano assieme. Io mi occupo più della parte di quelle che si chiamano di rete neurali profonde e di visione artificiale, cioè applicata ad immagini e dati multimediali però è abbastanza simile anche sul linguaggio e tante altre cose. Questi sistemi altro non sono che dei normalissimi sistemi matematici di ottimizzazione per chi diciamo che non hanno niente di strano ma semplicemente essendo ora composti da milioni di elementi, centinaia di milioni di elementi come sono i nostri neuroni naturalmente hanno una potenza che anni fa non poteva essere considerata. Sempre per farvi un altro esempio, stiamo parlando attorno agli anni 90, io lavoravo sui reti neurali per il riconoscimento di sistole di diastole nella moscerino da frutta, assieme, adesso è molto piccolo ma è veramente così, assieme al Burnham Instituto di San Diego. In quel caso per riconoscere se le sistole di diastole regolare, hanno preso il premio Nobel loro per i nuovi farmaci su questo, provavamo a utilizzare delle reti neurali con 30 neuroni. Non funzionava assolutamente nulla, cioè un sistema baesiano semplice semplice funzionava decisamente meglio. Adesso che invece di 30 neuroni, neuroni che si possono mettere, neuroni è un elemento di calcolo che fa delle somme di prodotto, niente di particolarmente difficile, però visto che adesso in un sistema di calcolo possiamo mettere centinaia di milioni, è chiaro che i calcoli che possono essere eseguiti sono molto più profondi e sono stati utilizzati per riconoscere, diciamo, in ambito medico delle radiografie di covid o non di covid, dare l'idea della prognosi che può essere fatta e in ambito medico è importante, ma in ambito robotico ancora di più, visto che la maggior parte dei robot mobili adesso utilizza questi sistemi per un grasping automatico, per guidare dei movimenti, per guidare dei droni che stanno lavorando e che trasferiscono le cose, per non parlare di tutto quello che abbiamo effettivamente dentro ai nostri cellulari o sul web. È molto chiaro che questo sia un aspetto informatico, le aziende più importanti al mondo che lavorano in intelligenza artificiale sono Google, sono Amazon, sono Microsoft, sono Apple, sono Alibaba, Baidu e tutto il resto e questo, il fatto che vi abbia detto questi nomi e ahimè non mi sia dimenticata, ma non vi ho detto dei nomi italiani o dei nomi europei, ci fa pensare quanto sia importante avere invece delle strategie italiane e europee su questo settore e quanto gli investimenti nostri devono essere mirati in qualcosa che serve direttamente al nostro territorio. Vi avevo accennato prima, ma adesso posso essere un po' più concreto sul fatto che l'intelligenza artificiale è creativa e importante. Noi viviamo di made in Italy. Made in Italy vuol dire macchine di precisione nella manifattura, ma vuol dire anche fashion, vuol dire la ceramica, vuol dire tutto quello che sappiamo fare che è grazie alla creatività e alle nostre competenze anche tecnologiche. Il fatto che, per esempio, questi sistemi possano aiutare i designer, possono aiutare dei progetti nuovi, fa sì che ci saranno delle possibilità competitive maggiori anche per la nostra industria. Un progetto per cui adesso state fatti alcuni brevetti insieme appunto alle ceramiche di Sassuola è quello di creare automaticamente migliaia di disegni di marmi, graniti eccetera, fatti in modo automatico con queste reti generative. Sostituiamo i designer? Assolutamente no. Gli diamo degli schizzi possibili per poter lavorare meglio e portare questo in giro per il mondo in un modo più efficace. Ecco, lo dico sempre in positivo, anche se naturalmente potremmo anche discutere del lato scuro della forza, cioè del fatto che chiaramente questi sistemi, essendo molto potenti, devono essere controllati, devono creare nuove competenze, devono creare nuovi lavori, non soltanto magari devono, eliminare alcune situazioni. Però sono fermamente convinta che adesso e nel prossimo futuro questa sia una direzione da cui non si torna indietro, e lo sappiamo benissimo, ma è una direzione in cui adesso tutte le potenze del mondo, compresa l'Italia, ha la capacità di governarle. Per quale motivo? Perché innanzitutto in Italia la nostra ricerca scientifica è molto buona, non lo dico perché siamo presenti io e Michela naturalmente, perché siamo solo due piccoli esempi di quello che succede in Italia. Però la nostra tradizione scientifica è davvero molto buona. E l'intelligenza artificiale è un insieme di tecnologie così in evoluzione che non possiamo dire solo un prodotto che si compra. È vero, possiamo comprare le librerie di Azure, possiamo comprare le librerie della Watson, dell'IBM, ma in realtà ogni giorno, ogni mese, escono delle tecnologie nuove. E quindi questo è un caso in cui non esiste solo una filiera diretta in cui l'azienda compra della tecnologia magari fatta all'esterno. Ma questo è un chiaro esempio di una filiera circolare dove la ricerca, le aziende che producono queste tecnologie e le aziende che ne hanno bisogno, e dico ancora di più, la società che ne hanno bisogno, devono assolutamente collaborare assieme in un unico ecosistema in cui si possa effettivamente avere un valore aggiunto di questo. Io sono abbastanza confidenza del fatto che in questo momento in Italia abbiamo la possibilità di farlo. E devo dirlo moltissimo in Emilia-Romagna, non perché c'è l'assessore, ma perché siamo una zona in cui la produzione sta rinascendo, siamo in una zona in cui abbiamo le competenze scientifiche, abbiamo la potenza di calcolo, e abbiamo i giovani che l'unico problema grosso che c'è dobbiamo riuscire a trattenere qui. Perché è ovvio che nel momento in cui insegniamo e diamo degli strumenti importanti ai nostri studenti, loro hanno una possibilità meravigliosa di andarsela all'estero. E da una parte io sono estremamente orgogliosa quando sento i miei ex studenti che adesso sono in Apple, sono in Qualcomm, sono a Stanford in giro, dall'altra mi piange anche il cuore perché gli investimenti che noi facciamo in qualche modo devono rimanere qua o almeno ci devono ritornare. E lo dico questo perché quello che stiamo facendo in questo momento, non solo io e Michela, ma con tanti colleghi e assieme al Ministro Giorgetti del Mise, la Ministra dell'Università e il Ministro Colau del Mide, è quello di iniziare a definire degli possibili investimenti, molto breve, ma anche in 4-5 anni, che ci permettano da una parte di definire quali sono le linee strategiche importanti per l'Italia, che non sono magari le stesse in giro per tutto il mondo. Per esempio, possiamo dirlo questo perché mi ho avuto il permesso, in questo momento ci hanno detto che l'educazione è per noi uno degli argomenti strategici. Non l'avevamo messo nelle chiavi, lo davamo quasi per scontato, ma invece ci hanno chiesto di metterlo esplicito come una delle priorità, così come priorità è ovviamente l'industria manifatturiera, ma per noi priorità è anche la cultura e il turismo. L'Italia ne ha bisogno e tantissimo si può fare, si sta facendo in intelligenza artificiale. Vi faccio solo un esempio per estrarre delle informazioni, tra tutto i dati digitalizzati che ci sono, siamo in un posto meraviglioso, che ci sono qua dentro, che ci sono nel mondo culturale, oltre a quello di dare una mano ai turisti, ma anche proprio per dare una mano agli storici e agli esperti per estrarre delle conoscenze che altrimenti purtroppo rimarrebbero soltanto nei libri o rimarrebbero soltanto in freschi meravigliosi come quello che abbiamo di fronte. Gli esperimenti di AI che si stanno facendo in questo settore, secondo me sono affascinantissimi e quindi sono altrettanto affascinanti come quelli che ci sono in ambiente industriale o in ambiente avionico o in tutti gli altri dove vi potrei parlare a lungo perché effettivamente è il nostro mestiere. Io concludo perché adesso il mio tempo è finito. Mercoledì io inizio a Modena il corso che si chiama AI per Automotive della nostra Università dell'Emilia Romagna di Muner perché l'ho solo citato ma capite benissimo quanto sia importante anche nel mondo dell'automotive tutte queste tecnologie ma l'obiettivo è quello di creare delle nuove generazioni di studenti e di ingegneri consapevoli che sappiano quelle che sono le tecnologie che adesso si possono anche comprare ma che oggi domani dovranno essere fatte nel nostro territorio perché le competenze che si estraggono da questi come vi dicevo non fatte da macchine ma fatte da progettisti da intelligenze umane che lavorano su questi dati devono rimanere le competenze del nostro territorio e quindi cedere i dati al mondo esterno ma ancora di più cedere la possibilità di estrarre delle informazioni da questo è un peccato su cui che poi ci porterebbe in pochi anni a non avere più degli asset importanti da esporre nel nostro territorio oppure di portare all'estero e quindi io spero che queste parole che ci stiamo detti adesso solo di partenza vi possono servire anche a suggerire ai vostri figli ai vostri amici e alle vostre figlie e vostre amiche assolutamente ancora di più di intraprendere questo questo percorso che è bellissimo io e Michela siamo donne vi giuriamo e stiamo lavorando su questo ma questo non è un mestiere né per uomini né per donne è un mestiere per persone che hanno voglia e l'entusiasmo di lavorarci io intanto mi fermo qua grazie alla professoressa Cucchiara per questo intervento introduttivo che ci ha dato che però ci ha fatto già entrare in molte delle questioni che ci ha dato un'idea della della potenza dirompente di questa tecnologia anche della molteplicità delle applicazioni che può avere anche con questi esempi concreti così interessanti anche quanto vicino in un qualche modo è questa tecnologia rispetto a noi quanto quanto sta cambiando appunto le realtà del nostro territorio ecco adesso passerei alla professoressa Milano chiedendogli da un lato appunto se rispetto a questo quadro c'è qualcosa qualche altro aspetto appunto che vuole mettere in luce che vuole evidenziare e dall'altro appunto abbiamo visto come appunto sia una tecnologia con potenzialità enormi ecco c'è un problema c'è un tema di affidabilità di questa tecnologia e soprattutto c'è anche una partita regolatoria molto importante che adesso si gioca ad esempio a livello europeo ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa abbiamo avuto una discussione proprio su diritto e tecnologia con il presidente merito della corte costituzionale Giovanni Maria Flick la professoressa Giusella Finocchiaro Stefano Quintarelli e l'attuale relatore del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale al Parlamento europeo Benifei ecco quindi le chiederei anche in merito diciamo a questo questo quadro il problema della regolazione quindi anche quello che si sta muovendo a livello europeo se vuole aiutarci diciamo a capire quali sono quali sono le dinamiche quali sono le prospettive gli scenari grazie. Perfetto buonasera a tutti anche io ringrazio per l'invito questo magnifico scenario allora io mi aggancio un attimo a quanto quanto ha detto quanto ha detto Rita e ovviamente concordo su ogni punto che ha sollevato. Diciamo abbiamo visto nella sua presentazione che l'intelligenza artificiale può essere veramente usata in ambito industriale in modo pervasivo quindi diciamo in settori quali la manifattura, l'automotive ma anche la finanza, la salute quindi la parte health, la parte agricoltura di precisione quindi ci sono tantissimi settori in cui l'intelligenza artificiale può essere usata. Per fare che cosa? Per ottimizzare il prodotto, per ottimizzare i processi produttivi, processi manutentivi, per la logistica anche per il recruiting nel senso che molti strumenti dell'intelligenza artificiale possono essere usati anche per la parte di risorse umane. Ovviamente ci sono poi anche altri aspetti dell'intelligenza artificiale che possono diciamo altre applicazioni che sono se vogliamo quello che la Commissione europea chiama le societal challenges cioè le grosse sfide sociali che vanno dal diciamo cambiamento climatico alla gestione delle risorse energetiche, idriche, la gestione delle risorse naturali in generale insomma. Quindi l'intelligenza artificiale può veramente aiutarci a risolvere problemi che sono sia industriali sia problemi sociali. Allora la domanda è ma perché allora non la usano tutti? Cioè perché non è così diffusa? Perché ogni azienda non ha la sua soluzione di intelligenza artificiale? E io credo che diciamo gli indubi vantaggi economici ma anche ambientali e sociali sono in questo momento un po' bloccati dal fatto che ci sono alcune barriere alla diffusione veramente diciamo capillare di soluzioni di intelligenza artificiale. E secondo me queste barriere sono principalmente due. Una riguarda la fiducia e la seconda riguarda la difficoltà dell'uso di queste tecnologie. Allora partiamo con la prima. La fiducia. Cioè perché noi dobbiamo avere fiducia in un sistema di intelligenza artificiale? Beh perché tipicamente questi sistemi ci supportano nelle nostre decisioni. Nelle aziende adesso ci sono esperti umani, quelli che noi chiamiamo esperti di dominio, che tipicamente lavorano su base della loro esperienza, sulla base di anni di decisioni prese nello stesso modo, più o meno basate su alcuni dati, che si vedono a un certo punto affiancare, non sostituire, perché i sistemi di supporto alle decisioni sono sistemi che non sostituiscono l'esperto umano ma che lo aiutano a prendere delle decisioni. Forniscono scenari, forniscono valutazioni di questi scenari, costi, benefici, impatti. Però in qualche modo c'è questo intruso che entra nella vita produttiva e nella vita lavorativa di una persona che ha sempre preso decisioni da sola e che mi propone adesso dei nuovi scenari decisionali. Quindi la prima cosa che deve essere ovviamente, la cosa che è importante è che l'esperto di dominio si fidi di questo sistema, di questo intruso. Allora diciamo questo io credo che sia un aspetto veramente importante. La Commissione europea ovviamente ha perfettamente capito questa necessità e ha costruito un gruppo di esperti, ha chiamato l'I-Level Expert Group, che ha definito le cosiddette linee guida etiche per l'intelligenza artificiale affidabile, quindi un'intelligenza artificiale di cui potersi appunto fidare. Ora queste linee guida etiche che cosa fanno? Sono diciamo hanno una serie di dimensioni che vi assicuro a prima vista, la prima volta che io le ho lette ho detto boh chissà che cos'è sta roba, sembrano veramente molto astratte. Però in definitiva diciamo ci deve essere un grande studio, una grande ricerca per far sì che queste dimensioni che sono abbastanza astratte per il momento diventino dei requisiti concreti. Cioè nelle aziende io devo andare in un'azienda e poter dire vuoi un sistema affidabile? Bene, devi fare questo, questo e quest'altro. Allora quali sono queste dimensioni? Vi faccio un po' di esempi. Allora la prima dimensione che è molto semplice da capire è la spiegabilità, ok? L'explainability. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molti di questi sistemi di intelligenza artificiale vi danno una risposta senza nessuna spiegazione. Vi faccio un esempio, diagnostica per immagini in ambito medico, abbiamo un medico che guarda un attacco, una risonanza magnetica e dice boh secondo me qua non c'è niente e un sistema dell'intelligenza artificiale che, notate bene, ha un'accuratezza del 98% e dice no no, qua c'è qualcosa. Allora detta così, boh il medico dice ascolti io ho anni di esperienza, insomma mi fido al giusto. Se invece il sistema riuscisse a dire guarda io ti dico che c'è qualcosa perché in questa zona dell'immagine, in queste tre immagini, ho visto quest'ombra e ti faccio vedere degli esempi simili in casi in cui magari questa patologia era presente in modo certo che avevano la stessa la stessa caratteristica. È molto diverso, cioè una persona che si approccia ad un sistema di questo genere ovviamente è un pochino più rassicurata se non altro dalla scelta fatta dal sistema intelligente artificiale. Quindi la spiegabilità è un aspetto fondamentale. Un altro aspetto piuttosto semplice da spiegare è quella che noi chiamiamo l'equità, cioè la fairness, no? C'è un sistema eco e non polarizzato. Molti di voi avranno sentito di questo sistema di Amazon che faceva recruiting o almeno la prima fase di selezione dei curricula delle persone che applicavano un lavoro in Amazon ed era stato addestrato da dati, no? Cioè tutti i sistemi intelligenti artificiali adesso vengono addestrati da un grande quantitativo di dati, anche quello di prima di cui ho parlato prima, tante immagini mediche, diagnosi, quindi questi sistemi creano dei modelli che mappano delle nuove immagini dentro a delle diagnosi. Nel caso di Amazon hanno fornito questo sistema curricula di dieci anni passati e gli hanno detto questi curricula sono buoni, questi non sono buoni. E il sistema che cosa ha fatto? Ha imparato un modello per discriminare curricula promettenti per poi passare a una fase ovviamente di confronto, umano da quelli che non erano promettenti. Bene, che cosa è successo? Che negli ultimi dieci anni Amazon ha assunto principalmente profili maschili e quindi il sistema ha detto si vede che profili maschili vanno meglio di quelli femminili, no? Perché non dovrebbe aver capito questo concetto? Bene, allora la questione è la seguente, questo sistema chiaramente un decisore umano non vuole che un sistema suggerisca delle decisioni che siano polarizzate. allora ci sono molte tecniche che devono essere messe in campo, tecniche che adesso vengono studiate negli laboratori di ricerca ma che è prestissimo e anzi sono già alcune sono già sul mercato, tecniche che eliminano questa polarizzazione. Ci sono tante altre dimensioni, adesso non sto a dilungarmi però c'è la robustezza, c'è un sistema che non deve causare danno anche non intenzionali, c'è la sicurezza, c'è la privacy, vogliamo preservare la privacy dei dati pur riuscendo ad estrarre valore da questi dati. C'è la sostenibilità anche e la sostenibilità perché come diceva prima Rita, l'intelligente artificiale ha adesso bisogno di tantissima potenza di calcolo e questo ha un impatto ambientale che è piuttosto rilevante. Quindi per cercare di far sì che questi algoritmi riescano a sfruttare la potenza di calcolo però magari risparmiando energia, risparmiando potenza, utilizzando però arrivando allo stesso risultato è un ambito di ricerca che è assolutamente prioritario. Bene, poi parliamo appunto del fatto che su tutto questo la Commissione europea è uscita con una proposta di regolamentazione dell'intelligente artificiale, è la prima al mondo e io credo che sia veramente un passo dovuto, è un passo molto importante. Questa regolamentazione dell'intelligente artificiale è sostanzialmente una regolamentazione che è basata sul rischio, ci sono applicazioni che sono super rischiose, di un rischio che non vogliamo correre, sono vietate, poi ci sono applicazioni ad alto rischio che devono in qualche modo essere certificate, ci vuole un occhio di attenzione su queste applicazioni e quindi i sistemi di intelligenza artificiale che si rivolgono a questi settori devono essere monitorati con un filo di attenzione in più e quindi da qua viene fuori tutto il problema della certificazione dei sistemi di intelligenza artificiale, cosa assolutamente non banale, ma anche è importante cercare di spiegare a un'azienda che vuole costruire un prodotto, che vuole adottare un prodotto, che cosa vuole dire tutto questo in pratica, cioè che cosa bisogna fare in pratica per avere sistemi che rispettino questi principi di affidabilità e che siano pure diciamo conformi con la nuova regolamentazione europea e vi assicuro che per questo nessuno, diciamo, io ho parlato con moltissime piccole e medie imprese, le grandi aziende che hanno risorse diciamo molto importanti anche dal punto di vista della ricerca si stanno muovendo per cercare di capire come gestire questo tipo di barriere, anche questo tipo di direzioni, di direttive, di linee guida. Ci sono altre aziende, quelle piccole, quelle che magari non lavorano neanche in un settore di IT che non sanno come raccapezzarsi, quindi è importantissimo che la ricerca si muova in questo contesto per cercare di aiutare in qualche modo le aziende a diciamo capire che cosa significa in pratica lavorare su queste dimensioni. Poi c'è il secondo problema, la seconda barriera se vogliamo, che è la barriera dell'accessibilità a questi strumenti. Allora al momento ci sono tantissime aziende, nonché la Commissione europea che ha costruito delle piattaforme che raccolgono gli strumenti principali di intelligenza artificiale, che raccolgono i principali risultati per metterli a disposizione delle aziende. Ma le aziende, soprattutto quelle piccole, medie imprese che lavorano in settori verticali, che non c'entrano assolutamente niente con l'informatica, non sanno neanche se ne hanno bisogno dell'intelligenza artificiale. Cioè non sanno se l'intelligenza artificiale li può aiutare o meno. Ho parlato con tantissime piccole e medie imprese che non ne hanno un'idea. Allora, e poi anche supponendo che sappiano, diciamo, che l'intelligenza artificiale potrebbe anche portare un vantaggio competitivo nel loro business, non sanno come fare. Allora, lì è fondamentale aiutarle queste aziende. Cioè è fondamentale che una strategia nazionale si ponga all'obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese in un processo di adozione di soluzioni di intelligenza artificiale. Come? Beh, per esempio, con servizi di, diciamo, di networking per mettere insieme la domanda e l'offerta, no? Di cercare di fare un match tra la domanda e l'offerta. Cercare di aiutare un'azienda che già ha competenze informatiche, per esempio, che propone un caso d'uso, ad esempio, usando l'italiano, usando l'inglese, ha un sistema di intelligenza artificiale che gli dice, guarda, tu hai bisogno di questo tipo di tecnologia. Questi sono gli strumenti, questi sono i corsi, se hai già delle competenze di informatica interna. Questi sono degli esperti, se invece all'interno non hai nessuna competenza di informatica. Quindi cercare di aiutare le imprese ad accedere a queste soluzioni è fondamentale, perché altrimenti si rischia, diciamo, di aumentare il digital divide anche all'interno del sistema produttivo. Quindi, sostanzialmente, diciamo, su queste due, poi c'è anche, diciamo, il terzo aspetto che, diciamo, che riguarda un po' tutte e due le cose, è che, appunto, per la questione che vi dicevo prima, che adesso ci sono esperti umani che si trovano questi intrusi nel loro, diciamo, ambiente di lavoro, per esempio, costruire questi sistemi insieme a loro, quindi fare dei sistemi che vengono costruiti con un design collaborativo con questi esperti, sarebbe fondamentale. Cioè, la fiducia, no, di cui si parlava prima e anche l'accesso a questi sistemi verrebbe migliorato. Ma questo che cosa implica? implica essere in grado di legare modelli che vengono dai dati con modelli che vengono dagli esperti. E vi assicuro che questi due modelli tipicamente fanno appugni e quindi è molto difficile riuscire ad integrarli. Quindi ci vuole che cosa? Ci vuole ricerca. Ci vogliono nuove talenti, ci vogliono, bisogna formare nuovi talenti, tenerli in Italia, eventualmente attrarre talenti che sono andati all'estero e ci vogliono, ci vuole un'altissima attività di ricerca fondazionale. E questa ricerca però non deve essere solo scientifica e tecnologica, ma deve essere multidisciplinare. Ed è per questo che, per esempio, a Bologna noi abbiamo fatto questo esperimento, che è un esperimento un po' unico in Italia, se vogliamo. Abbiamo messo insieme un centro interdipartimentale sull'intelligenza artificiale, che non è il classico centro di intelligenza artificiale dove ci sono soltanto esperti di ingegneria informatica e informatica, ma è un centro interdipartimentale che coinvolge 27 dipartimenti dell'Università di Bologna, che sono dipartimenti e più di 400 ricercatori, mette insieme chi sviluppa l'intelligenza artificiale e chi la usa, mette insieme profili tecnologici, scientifici, sociali, economici, profili legali, mette insieme gli utilizzatori, quindi la parte di meccanica, di agro food, la parte di mecatronica, la parte di medicina. Abbiamo cercato di fare un centro dove le persone si parlassero e, diciamo, venissero fuori veramente una contaminazione di discipline che possa portare a sistemi che siano affidabili e facilmente utilizzabili. Grazie mille. Grazie anche alla professoressa Milano per questo intervento che completa il quadro, arricchisce l'immagine che ci siamo fatti dell'intelligenza artificiale, appunto, con questi elementi che riguardano appunto la fiducia che possiamo avere in questi sistemi e anche tutta la complessità della ricerca che è in campo e con le problematiche ulteriori che in un qualche modo in relazione alla regolamentazione si pongono. Ecco, adesso passerei a Sanzio Bassini, passando al tema del supercalcolo, che è un tema appunto che è evocato nel nostro titolo e quindi gli chiederei innanzitutto qual è l'importanza del supercalcolo, perché abbiamo bisogno di sistemi di calcolo ad altre prestazioni, per quali applicazioni e perché ne ha bisogno un territorio, in che modo la presenza di sistemi di supercalcolo è qualcosa che aiuta, può aiutare, può creare nuove potenzialità per un territorio e poi gli chiederei anche di spiegarci quali sono gli ambiti, brevemente, quali sono gli ambiti principali della fondazione IFAB in questo ambito e in quali direzioni opera. Grazie. Grazie per l'invito. Cercherò di coprire uno spazio enorme di questioni, cercando di non fare troppa confusione e di provare di collegare tutti questi temi con un minimo di filo conduttore. Perché il supercalcolo? I metodi computazionali hanno cambiato il modo di fare ricerca scientifica e innovazione tecnologica. Il motivo è che in un qualche modo, come dire, il sistema di supercalcolo diventa un laboratorio universale per studiare tutti gli aspetti che hanno a che fare con la ricerca scientifica in tutti i domini e che hanno a che fare con l'innovazione tecnologica. Da questo punto di vista relativamente al territorio, un piccolo accenno, poi ci ritorno, lo sviluppo di quelli che sono gli algoritmi e poi dopo i codici e poi dopo le soluzioni sono molto vicino all'applicazione. Dunque da questo punto di vista è immediatamente molto semplice trasferire questo processo a quello che è la produzione nei vari domini, nei vari ambiti, non so come dire. Cioè se uno studia la fluidodinamica di quelle che sono le grandi masse può rapidamente trasferire questa competenza e la conoscenza della fluidodinamica nella ottimizzazione del sistema di riscaldamento di un'abitazione. Adesso dico la prima cosa che mi viene in mente, non so come dire. Dunque in questi aspetti di produzione per intenderci. Dunque perché il supercalcolo? Per questo motivo, cioè per il fatto che in qualche modo rappresenta il sistema abilitante per fare ricerca scientifica e perché d'altra parte rappresenta, ed è questo un elemento particolarmente importante dal punto di vista strategico, rappresenta la palestra relativa a quella che è l'innovazione tecnologica di tutta la filiera della tecnologia dei microprocessori e della tecnologia dei semiconduttori. Ora è del tutto evidente che questo aspetto è un aspetto particolarmente strategico. Quando intendo dire palestra tecnologica è perché in qualche modo, siccome la domanda è illimitata, l'ottimizzazione del supercalcolo, l'ottimizzazione di quelli che sono i componenti, che in qualche modo costituiscono un sistema di supercalcolo, diventa elemento che poi dopo si traduce in una ricaduta tecnologica fondamentale, la potenza del microprocessore, il basso consumo del microprocessore, perché in qualche modo, altrimenti se i microprocessori consumassero tanta energia non sarebbe possibile costruire un supercalcolatore, che evidentemente diventano elementi di competitività tecnologica e di valore strategico fondamentale. Dunque una competizione su quello che è il dominio dello sviluppo del supercalcolo rispetto a quello che è la ricaduta e la filiera sulla componentistica con cui sono costruiti i supercalcolatori, che rappresenta un elemento, come dire, di competizione globale. Ora, da questo punto di vista, questa competizione globale è diventata una competizione continentale rispetto a quelli che sono i grandi sistemi, Cina, Stati Uniti, Giappone, Europa. Europa perché in qualche modo non sarebbe possibile a livello dei singoli paesi poter in qualche modo rispondere e mantenere un livello di prestigio tecnologico e di conoscenza su quelli che sono i metodi computazionali e le tecnologie dei supercalcolatori, che in un qualche modo possa mantenere la competitività del nostro sistema, dove il nostro sistema è il sistema complessivo della produzione, della conoscenza, ma evidentemente anche del mantenimento del nostro livello di welfare. Dunque il supercalcolo ha questo livello di, come dire, criticità strategica al punto che le grandi aree globali hanno programmi di investimento enorme da questo punto di vista e solo una risposta europea ha potuto in un qualche modo o riesce in un qualche modo a mantenere il sistema europeo a livello di competizione con il sistema cinese, il sistema degli Stati Uniti, il sistema del Giappone. In questo quadro di riferimento l'Europa ha attivato una iniziativa fondamentale di finanziamento diretto cofinanziato da quelli che sono gli Stati membri. Complessivamente parliamo di alcuni miliardi di anni per i prossimi, che sono persistenti nel senso che è già avvenuto nel periodo precedente e che continuerà nei prossimi anni, per mantenere la conoscenza, la competenza e il livello delle infrastrutture di supercalcolo in Europa al livello di quello che è la sfida con gli altri sistemi continentali al mondo. In questo quadro di riferimento l'Italia aveva e continua ad avere una posizione importante, è da sempre un paese che ha una posizione vitale in questo quadro di riferimento. Voi per quelle che sono state le storie che in qualche modo sono avvenute nel corso del tempo nel nostro paese, nel nostro sistema della ricerca e se volete anche un certo quali livello di lungimiranza nel mantenere persistente un qualche livello di finanziamento e d'altra parte la capacità anche di fare sistema. Tutto ciò centrato su quello che è il territorio di Bologna, perché storicamente il supercalcolo è, come dire, in un qualche modo legato alla città di Bologna. I primi insediamenti che risalgono al 60, successivamente al NAS del Cineca negli anni 70, più recentemente l'unificazione di quelli che sono stati i consorsi nazionali per supercalcolo a guida Cineca, poi le iniziative recenti di consolidamento di quello che è stato un'operazione di sistema, ha visto l'Italia in questo quadro di riferimento più generale sul supercalcolo una posizione molto importante e Bologna baricentrica in questo contesto. Questo ha consentito di ottenere in un quadro di riferimento dove il sistema nazionale, il sistema europeo e il sistema regionale hanno fatto, come dire, sinergia e unitarietà di intenti e anche di mobilizzazione economica, hanno consentito di ottenere un certo numero di risultati importanti. L'inaugurazione di pochi giorni fa del centro meteo, che a questo punto diventa operativo, e il finanziamento del progetto Leonardo che prevede di installare, a partire da gennaio febbraio prossimo del 22, uno dei sistemi più potenti di supercalcolo in Europa. Nella fattispecie relativamente a quelli che sono gli ambiti delle applicazioni di intelligenza artificiale, il più potente. Nella fattispecie il più potente al mondo per quello che riguarda le modalità di utilizzo in ambito di intelligenza artificiale. Dunque una, come dire, storia di successo particolarmente rilevante, che ha generato un contesto di potenzialità di ulteriore opportunità di sviluppo. Ora, l'idea di un'esigenza illimitata di potenza di calcolo, come dire, sottintende poi la domanda, ma poi per fare cosa? Ora, richiamava prima Michela Milano quelle che sono le grandi sfide socio-economiche che in un qualche modo sono al centro di quello che è l'agenda europea e evidentemente anche l'agenda del sistema globale. Cito alcuni esempi per cercare di rendere, di dare l'idea di quelli che sono le sfide, le esigenze e le potenziali ricadute. Innanzitutto il problema del cambiamento climatico. Questa cosa è una cosa che è fondamentale per quello che riguarda la salvaguarda della vita del paneta e le implicazioni di ricaduta, la biodiversità, le risorse idriche, le energie. Ora, per capire come in un qualche modo riuscire a gestire i processi di transizione ecologica, che in un qualche modo non possono avvenire, come dire, con una discontinuità, perché altrimenti sarebbero insostenibili, occorre fornire a quello che è il sistema delle decisioni un supporto che cerchi di capire qual è l'impatto rispetto alle decisioni prese. Dunque, da questo punto di vista, l'idea di realizzare un gemello digitale del sistema globale terrestre, a partire da quelli che sono tutti gli strumenti di osservazione. Dunque, tutti i sistemi di monitoraggio e di raccolta dati che il sistema globale terrestre, quindi il sistema satellitare, il sistema dei sensori, il sistema della disponibilità di quelli che sono i dati del quotidiano, mettono a disposizione per realizzare un gemello digitale del sistema terrestre. Ed è tutto evidente che questa quantità di dati ha bisogno di essere assimilati e i metodi di assimilazione sono i metodi che venivano richiamati da Rita Cucchiare e Michela Milano prima. Solo con una capacità di combinare i modelli a risoluzione, i modelli di tipo fisico-computazionale con i metodi di assimilazione dei dati basati su intelligenza artificiale, riusciranno a garantire la possibilità di far sì che il sistema di supporto alle decisioni abbia contessa di quello che sarà l'impatto delle decisioni prese in termini di sostenibilità. Perché se non sono sostenibili, non sono praticabili e dunque di conseguenza non risolvono quello che è un problema con potenzialità di rischio catastrofico, che è quello del cambiamento climatico. Questo è il primo tema assolutamente rilevante rispetto al quale solo potenze illimitate di supercalcolo, abbinata con quelli che sono i metodi di intelligenza artificiale ci può dare una soluzione. L'altro dominio è quello dell'impatto dal punto di vista di quello che è la sostenibilità energetica. Dunque l'80% della nostra produzione industriale è concepita per un singolo uso. Al di là delle cannucce per, come dire, le bibite che adesso sono state sostituite con cannucce biodegradabili, però al di là di questo esempio, l'80% della produzione industriale è concepita per singolo uso. Il problema è che è tuttora gran parte basata su metallurgia. Ora, la metallurgia ha un problema di impatto incredibile. L'alternativa, che è la plastica, sappiamo perfettamente che tipo di impatto ha prodotto. Dunque occorre una capacità di poter predire quello che sono i materiali al fine di far sì che questi materiali siano effettivamente riciclabili. Dunque che il concetto di economia circolare non sia semplicemente, non so come dire, la raccolta di rifiuti, che è una cosa importante ma che non risolve il tema. Abbiamo bisogno di una capacità, di una piattaforma che sia in grado, dal punto di vista della combinazione dei metodi della dinamica molecolare e della fisica quantistica, di poter predire il comportamento dei materiali a priori, fino a livello dei componenti. Ora, questa cosa può essere fatta solo utilizzando quelli che sono i metodi classici della dinamica molecolare combinati con i metodi di apprendimento di quelli che sono le risposte di questi metodi, al fine di predire il comportamento dei materiali e di far sì che i materiali siano effettivamente riciclabili. Questo è il secondo tema di sfida. Il terzo riguarda la salute. La salute inteso come capacità di rispondere a quelle che sono, viviamo in un momento di crisi dal punto di vista della salute, crisi dovuta alla pandemia. Dunque, la salute. Ora, richiamava Rita prima quello che è il tema relativo, per esempio, all'elaborazione delle immagini diagnostiche, la combinazione fra i metodi di elaborazione delle immagini diagnostiche e la disponibilità di quelli che sono dati genomici. L'elaborazione, il sequenziamento di un genoma umano, la prima volta che è stato fatto nel 79, 80, è costato 100 milioni di dollari. Un genoma è costato 100 milioni di dollari. La previsione è che il sequenziamento del genoma umano completo possa costare un dollaro. Dunque, che da questo punto di vista, la previsione è che nel 26-27, rispetto a quello che è la curva, la legge di Moore del sequenziamento del genoma, prevede che nel 26-27 il sequenziamento completo di un genoma umano possa costare un dollaro. Dunque, da questo punto di vista, è pensabile di applicare il sequenziamento del genoma umano, come dire, per qualsiasi tipo di indagine rispetto a quello che è il sistema fisiologico umano, che in un qualche modo è al centro dell'attività della ricerca clinica. Dunque, da questo punto di vista, è per esempio possibile capire qual è l'impatto delle varianti del genoma e capire qual è la risposta personale e individuale a quelli che sono il rischio di patologia e la risposta cosiddetta esiologica rispetto alle terapie. Cioè, com'è che, non so come dire, rispetto a quello che è la pandemia che abbiamo in corso, ci sono, al di là di quelle che sono le situazioni critiche, risposte completamente diverse, IVI comprese la risposta alla vaccinazione, che è comunque completamente diversa ed è oggetto della ricerca scientifica. Al di là dell'efficacia, non so come dire, che è fuori discussione. Il punto è che, diciamo, la comprensione esiologica della, come dire, risposta a quelle che sono le terapie e, d'altra parte, a quello che è anche la possibile rischio di malattia, che ciascuno di noi si porta indietro per motivi, come dire, dovuti alla caratterizzazione del nostro sistema fisiologico, anche in relazione a quello che è il sistema ambientale, è qualche cosa che potrebbe essere studiato a fronte del fatto che sono disponibili, potranno essere disponibili, la quantità di dati prodotti dal sequenziamento del genoma che consente di analizzare le varianti del genoma. Ancora una volta parliamo di enormi quantità di dati, di queste attività di ricerca ce ne sono tantissime in corso. La Gran Bretagna ha lanciato il progetto 100.000 genomi, gli Stati Uniti altrettanto, in Italia il progetto sull'epigenetica è un progetto particolarmente attivo e rilevante, dove tutti i policlinici stanno cominciando a condividere i dati della ricerca genoma, a partire non tanto da quello che è la patologia, a partire da quello che è la variante, cioè a partire da quello che è la nostra, come dire, individuale caratterizzazione umana. Ovviamente questi metodi sono totalmente combinati con quelli che sono dei metodi di apprendimento, di intelligenza artificiale, perché in un qualche modo è indispensabile far sì che la decimazione dei dati avvenga con una tempistica che sia opportuna dal punto di vista di quello che è la risposta scientifica, se richiede un tempo che è oltre a quello che è la capacità di poter rispondere scientificamente diventa inutile. Dunque questi grandi temi che sono in qualche modo molto attivi, cioè non sono delle cose che sono semplicemente concettualizzate, sono nelle traiettorie di ricerca dei grandi laboratori nel mondo e evidentemente anche dei grandi laboratori in Europa con una presente italiana importante, richiedono potenza illimitata. Dunque la continua ricerca rispetto a quelli che sono i sistemi di supercalcolo, l'utilizzo dei sistemi di supercalcolo e i componenti che li caratterizzano oltre alla metodologia con le quali vengono utilizzati. In questo quadro di riferimento è del tutto evidente che fare sistema in termini di mobilizzazione di risorse economiche, mobilizzazione di competenze e mobilizzazione di skill, quindi ricadute, è l'unico modello che possa rendere sostenibile questo percorso. Dunque da questo punto di vista i due pivot che sono stati realizzati in questo sistema, in questo sistema, in questo territorio sono da un lato l'associazione Big Data che in un qualche modo raccoglie tutti gli enti nazionali di ricerca, tutto il sistema delle università della regione e che si sta estendendo nei confronti di quelli che sono molti altri enti e soggetti. Recentemente sono saliti a bordo di questa associazione tutti gli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico della nostra regione. Giusto per, come dire, agganciare a quello che dicevo un attimo fa rispetto a quello che è l'importanza del supercalcolo. Dall'altra parte è stata costituita la fondazione IFAB che ha l'obiettivo di rappresentare una sorta di, come dire, punto di elaborazione di quella che è la ricaduta in termini di innovazione tecnologica e supporto a quello che è lo sviluppo dell'industria. Nel senso che IFAB è il punto di collegamento fra la ricerca da una parte, quindi gli enti nazionali di ricerca e le industrie. A bordo sono un certo numero di industrie e esiste un processo, è in corso un processo di ulteriore integrazione, non più tardi di ieri l'altro, in occasione della inaugurazione da parte di Dompe farmaceutica del loro laboratorio di ricerca, che nella fattispecie hanno denominato Escalate. Escalate è il progetto Escalate for COV che è stato finanziato dalla Commissione Europea, essendo Dompe primo contraente per lo studio di terapia a contrasto al virus ed è basato su metodi di cosiddetto virtual screening, dunque dinamica molecolare ad alta risoluzione e di intelligente artificiale per individuare rispetto a quelli che sono i risultati del virtual screening, quelli che sono i principi attivi che possono essere utili per essere trasformati in una medicina. Dompe è, come dire, uno dei potenziali candidati per salire a bordo, Leonardo Company è un altro candidato, dunque creare un punto di riferimento che mette in relazione qui a Bologna, ancora una volta, dunque in una situazione che ha la logica di fare sistema come elemento sostanziale per fronteggiare a quelli che sono le grandi sfide che ci stanno di fronte e le grandi esigenze di supporto all'innovazione per far sì che questo rappresenti un punto di riferimento per l'ulteriore sviluppo, che è un po', se volete, l'esigenza che abbiamo continuamente di fronte essendo il supercalcolo richiesto in termini di potenza illimitata, quindi una logica che prefigura che non ha un limite rispetto a quello che è la domanda. Grazie a Sanzio Bassini per questo quadro molto efficace che ci ha fatto dell'importanza e dell'utilità del supercalcolo, della ricchezza di applicazioni possibili in ambiti cruciali come lo studio del cambiamento climatico, l'economia circolare, le applicazioni per la salute. Mi veniva in mente come sia la professoressa Cucchiara che Sanzio Bassini, tra l'altro pensando abbiamo anche visto quanto siano profondamente legati questi due temi del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale, dicevo emergeva come effettivamente l'Italia, come spesso in realtà accade per quanto riguarda la ricerca e anche un certo tipo di tentativi di applicazione, sia in una posizione tutt'altro che arretrata, che possa vantare dei risultati importanti, delle competenze significative e dei gruppi di ricercatori che sono in grado di portare avanti ricerca in aree di frontiera come quelle di cui abbiamo parlato. di solito però il punto dove casca l'asino è nella capacità del sistema paese, in un qualche modo di supportare questi sforzi e di costruire in un qualche modo una struttura, una collaborazione, una strategia, una visione di investimenti e anche una capacità di collaborazione tra soggetti diversi perché spesso è difficile appunto collaborare in questo paese e quindi invece forse a Bologna adesso si sta cercando in un qualche modo di fare questa cosa che di solito manca e quindi appunto su questo passerei all'assessore Colla chiedendogli quindi cosa è che può fare, cosa possono fare le istituzioni e la politica per sostenere questi processi, quali sono le linee, le strategie che si possono mettere in campo e in particolare cosa sta facendo la regione Emilia Romagna, è un laboratorio su questi temi da cui si può imparare, si può trarre qualcosa che può avere anche una ricaduta più ampia? Grazie, grazie e buonasera a tutti e a tutte, adesso non so, hai dato la parola a me, hai scattato l'allarme qui, rubano qualcosa o c'è qualcosa per la politica. Ma intanto mi veniva ascoltando loro una battuta, mi sembra di poter dire che la regione, questa regione non ha bisogno di avere dei cacciatori di teste per avere qualità, le teste le abbiamo qui, non ci sono obiettivi strategici senza avere le teste, non c'è un buon manufatto senza teste, non si fa intelligenza artificiale senza teste, non si utilizzano i big data senza teste, quindi il tratto fondamentale per noi è un fatto strategico e permettetemi all'inizio hai citato che siamo anche, abbiamo questo sponsor dalla fondazione Big Data, qui c'è anche Adele De Bello, prima di entrare ci sentiamo spesso con Patrizio Bianchi, adesso è diventato anche il ministro, ma prima era qui al mio posto, quindi io sono anche onorato e anche preoccupato di dover chiudere il cerco di tutto quell'impianto anche strategico che lui ha consegnato, mi ha raccomandato di dire che la fondazione Big Data è nata su promozione di una legge regionale, perché mi dice non la citano mai, ho detto guarda stasera vado lì la cito, devo dire non ti preoccupare, anche perché l'abbiamo voluta con forza, anche perché era un fatto strategico, poi vi dirò il perché, che lega anche un po' il tutto. Quando noi abbiamo iniziato questa discussione, abbiamo almeno questa giunta, ha iniziato a provare a posizionare una strategia, un'idea del come noi riuscivamo a interpretare sviluppo e tenuta sociale, questi due pezzi fondamentali, questa è una regione splendida, è una regione che sta nel mondo, l'Emilia Romagna o nel mondo non è, queste persone dialogano con accademia, con imprese di tutto il mondo e abbiamo un sistema che ha una capacità di stare nel mondo di relazioni di qualità come poche regioni, noi ormai dobbiamo per forza stare al passo con teste e tecnologie che siano al meglio nel sistema europeo, altrimenti rischiamo di lentamente regredire, quindi questo non ce lo possiamo permettere, l'Emilia Romagna non vuole mai diventare un conto terzista per altri, ma vuole essere, avere la sua autonomia manifatturiera, la sua autonomia accademica e la sua autonomia, permettetemi, anche istituzionale, di pensiero, poi l'Emilia Romagna vuole aiutare il suo paese, ha bisogno del suo paese, ma vuole aiutare il suo paese, penso che siamo uno snodo molto delicato, molto importante, molto delicato, qui si sta discutendo di PNR, dire come utilizziamo quelle risorse è fondamentale per dare una risposta strategica al nostro paese, non abbiamo altre possibilità, forse l'ultima che ci viene consegnata, ma come ci siamo posizionati? La discussione è intanto una novità, non abbiamo fatto un progetto che era legato a Bonaccini, a Colla, al mandato, ma abbiamo iniziato a posizionare una traiettoria strategica che vogliamo consegnare nel tempo, almeno nei prossimi dieci anni, abbiamo fatto una lettura di cosa c'era nel mondo di politico da mettere a terra e abbiamo analizzato che nel 2015 è stata fatta Agenda ONU 2030, nel 2015 è stato fatto Laudato Si, nel 2015 è stato fatto Cov 21, da lì siamo partiti, perché penso che tra l'altro quelli siano dei manifesti che hanno cambiato la cultura del mondo, permettetemi anche dell'Europa, provate a immaginare Biden dopo il voto, la prima cosa che fa è ritorno a firmare l'accordo di Cov 21, non che stia funzionando tutto, ma dal punto di vista della traiettoria culturale c'è uno spostamento inedito, l'Europa tutta ad un tratto dal fiscal compact è diventata Green New Deal, Recovery è diventata Next Generation EU, è diventata anche Kenesiana, io che sono progressista vuol dire vedere un'Europa Kenesiana a chapeau e quindi il tema oggi col PNR è bisogna riscoprire la cultura rooseveltiana dove la politica deve ritornare sopra, in forma democratica, noi questa tecnologia ha bisogno di una politica che sia in grado anche di garantire democrazia, perché attenzione non è ininfluente questa tecnologia, Rita citava alcuni soggetti, se io prendo Apple in questi giorni abbiamo avuto Eric Smith che ovviamente mi raccontava, ero affascinato, bisogna controllare gli algoritmi, però io ho detto bisogna controllare anche un po' la concentrazione di potere che avete, perché altrimenti qui c'è qualcosa che non va, soltanto Apple fa più prodotto interno lordo del nostro paese, quota 2.200 miliardi, il nostro prodotto interno lordo è 1.800 miliardi, lo fa con un milione di lavoratori e con 20 milioni di occupati, quindi la dimensione, concentrano non solo, questa è l'economia dei dati, l'economia della conoscenza, concentrano su di loro una ricchezza, un potere, vanno a prescindere dagli stati, una tecnologia splendida, diciamoci la verità, questa è una tecnologia splendida, mondialista, e però questa concentrazione di potere la dobbiamo governare. mettono una ragione sociale in Irlanda, pagano l'1%, se la politica non è più in grado di ridistruire la concentrazione di questo potere a governare, sia dal punto di vista tecnologico, sia dal punto di vista delle ricchezze, guardate che andiamo in autoavvitamento, arriva che la mediazione dell'impatto di questa tecnologia arriva dentro le nostre città, l'Europa è stata forte quando è sempre riuscita a fare la grande mediazione tra capitale del lavoro, ha messo il welfare, quindi ha messo la scuola, la sanità, quale condizione di governo pubblico. E siccome siamo molto europeisti, io penso che questa regione sia molto anche cultura europeista, la giunta dell'Emilia Romagna è molto europeista, stiamo dialogando con l'Europa come non mai, ci permettiamo anche a volte di criticarla proprio perché siamo molto europeisti, l'Europa, guardate, sta facendo un posizionamento incredibile, sta ridisegnato su 5 asset strategici i finanziamenti, questi 750 miliardi, tra l'altro l'Emilia Romagna non è solo candidata al PNR, è candidata ai 750 miliardi, essendo noi, vuol dire, dal punto di vista della capacità di stare nell'esport come non mai, siamo candidati a quella partita, ma al di là di questo, quei 5 asset sono precisi, o noi siamo in grado di stare dentro quella traiettoria che diventa traiettoria di sviluppo, diventa traiettoria sociale, diventa traiettoria politica, altrimenti siamo fuori. Noi tutto l'impianto, anche normativo, di posizionamento, di decisioni, l'abbiamo preso da quei 5 asset e poi abbiamo fatto la strategia intelligente che è la struttura che deve fare alla regione, insieme alle sue città. Guardate, si parla molto del PNR, però in queste giornate andremo a finire, entro al 31-12, questa regione sta discutendo 2 miliardi e mezzo di risorse che arrivano sul FES, sull'FSE, che saranno risorse specifiche per questi investimenti che qui sono stati citati, oltre al PNR. Stiamo discutendo con il nostro paese, non a caso Draghi, la prima uscita pubblica che ha fatto, l'ha fatta il Tecnopolo. Dentro il PNR qui c'è chi poi non solo discute, ne sa anche più di me, perché ormai siete vicini ai palazzi più di noi, quindi bene che stiate lì a presidiare. Ci sono, almeno dentro il PNR verranno disegnati 5 campioni di asset, 5-10 campioni, qui verranno fatti 300 milioni di investimenti, chi l'avrebbe mai detto? Noi siamo candidati a avere un grande campione che è il Tecnopolo, ma come vuol dire un grande campione che hanno già definito è la mobilità, provate a immaginare la mobilità, l'importanza che avrà, che io penso che sia stato uno dei punti anche, tuttora uno dei punti di debolezza del nostro paese, se c'è una debolezza del nostro paese anche di produttività, di capacità di stare nel mondo è stata certamente sulla mobilità, sulla logistica. L'altro grande punto, infatti fanno un campione che si chiama energia ambiente, è ad esempio, provate a immaginare in queste ore cosa vuol dire costo dell'energia dal punto di vista anche competitivo, quindi come si produce l'energia e come si riesce a mantenere sostenibilità, il tema di questa tecnologia è fondamentale. Intelligenza artificiale, digitalizzazione, per me digitalizzazione trasversale nelle città, nei luoghi di lavoro, di processo, di prodotto, sensori, big data, robotica, intelligenza artificiale, e cyber security, ed è anche fattore pubblico. Questa è la strategia che noi abbiamo definito e ci stiamo muovendo lì, non ci spostiamo da lì e in questa operazione, a ragione Sanso, c'è un patrimonio incredibile e anche un patrimonio che ha questa regione. Guardate, teniamocelo stretto, noi a volte lo diamo quale fatto ordinario, ma non è così. La capacità di fare sistema. Chi l'avrebbe mai detto che mettiamo insieme le nostre università, i rettori, non sono pranzi di gala, anche mettere insieme professori di Modena e di Bologna non sono pranzi di gala. Ma, provate a immaginare, noi abbiamo fatto il patto per il lavoro, il patto per il clima è stato firmato da tutte le città, è stato firmato da tutte le università, è stato firmato da tutte le associazioni preditoriali, da tutte le organizzazioni sindacali. E rende molto sexy questa regione, dal punto di vista dell'affidabilità, di attrarre investimenti e faremo una legge per attrarre talenti. Perché noi abbiamo bisogno di attrarre talenti. Se vogliamo mantenere le nostre filiere nel mondo, il tema delle teste, non perderle. Qui abbiamo delle eccellenze. Quando voi insegnate qui ai ragazzi, ditegli anche che possono restare qui, ma noi dobbiamo dare la possibilità di restare qui, bisogna togliere la coltre della precarietà, bisogna dargli dei percorsi. Quindi attrarre talenti, non perdere talenti, far ritornare talenti, formare talenti, noi faremo un grande investimento in quella legge, per attrarre talenti non è sufficiente andare all'università, indispensabile, come si può andare a fare un ITS, una laurea professionalizzante. Io penso che bisogna riscoprire anche la cultura tecnica e la cultura scientifica, altrimenti il mismatch rischia di essere ancora molto forte. poi l'umanesimo è trasversale, le famose soft skill, benissimo. Ma attenzione, che abbiamo bisogno anche la politica, l'istruzione, l'università, anche indirizzo politico. Se noi vogliamo dare una risposta a questo mismatch, dobbiamo ad esempio dire alle ragazze che sono bravissime, che di non avere il timore di andare verso la cultura stemma. E in questa operazione per noi attrarre talenti vuol dire però a quei ragazzi che magari arrivano dall'estero perché arriveranno, bisogna dire che con la loro famiglia devono trovare scuole internazionali, devono trovare case, devono trovare percorsi di carriera, non devono trovare dei tirocini a tempo indeterminato. Ma le associazioni imprenditoriali gli sto dicendo voi se volete, vuol dire, mantenere testi, dovete dare anche stipendi dignitosi. e fargli il percorso di carriera, mettere in sicurezza la loro professionalità e quindi è un pacchetto. È la vera novità contemporanea, anche perché essendo demografia piatta, se noi non siamo in grado di trattenere e chiudere il cerchio anche dal punto di vista delle teste e di chi ovviamente è la nuova generazione, la generazione digitale, noi non riusciremo a tenere la capacità delle nostre filiere. E qui Michela e Rita sanno che l'Emilia Romagna, io sono un amante delle filiere, come tu sai, anche che tu citi delle imprese stupende, ma dietro quelle imprese, non dimentichiamolo mai, il 90% delle imprese di questa regione hanno non più di 10 dipendenti. E quindi, se io voglio salvare il sistema economico di questa regione, a quei campioni, devo mettere la testa della Rita, devo mettere la piattaforma ovviamente di quelle imprese, ma quelle imprese devono vedere la filiera. Il tema non è più se sono grande o piccolo, ma se sono dentro in quella filiera che sono in grado, non di avere il grande serve, ma di poter sapere che sul processo, su quel prodotto specifico, che rappresenta quel driver che sta nel mondo, tu hai le competenze, ti do la tecnologia, ti do la mia piattaforma di progettazione, ti do la mia banca dati, diventi partner del mio prodotto per stare nel mondo. Questo è l'altro tratto. Sono stato troppo lungo, devo finire, perché il microfono è qui. Prima il... E quindi, questo per noi è un altro posizionamento netto. E abbiamo questo campione, che è veramente un campione eccezionale. Guardate quel tecnopolo orgogliosi di averlo a Bologna, di averlo in Emilia Romagna. Ma quella è una sede di stampo mondo. È un patrimonio per l'Europa. Per la prima volta l'Europa ha capito che si doveva mettere in mezzo e avere una forza sua in un settore strategico. Prima rischiavamo di essere di coccio. Per fortuna l'Europa si è un po' svegliata su quel terreno. E avere lì questo super calcolo europeo sul tema del clima, ma non solo. Provate a immaginare, prevenire il clima. Provate a immaginare cosa vuol dire in agricoltura. Provate a immaginare cosa vuol dire sulla protezione civile. Aver la certezza di cosa avviene dal punto di vista dell'area. Provate a immaginare la logistica. Provate a immaginare. Potrei continuare. Immaginare, immaginare. Un patrimonio incredibile. Forse non abbiamo ancora la dimensione. Voi sì, ma noi no. La dimensione del cosa vuol dire avere una forza di quella portata. La responsabilità della regione insieme anche alla città di Bologna, perché non dimentichiamola. Dentro a questa città abbiamo idee precise, combacianti sulla strategia. Ma con tutta la regione, con tutte le università, facciamo il sistema, abbiamo le idee precise di dove vogliamo andare. Veramente un patrimonio. E vicino lì cosa c'è? Adesso l'abbiamo inaugurato, ma vicino cosa c'è? C'è Enea, che porta lì tutto il suo centro di ricerca sull'economia circolare. E quindi dal tema del clima al come io faccio l'economia circolare sui temi della sostenibilità. Ma poi c'è anche il Cineca, che ovviamente non ha bisogno, ho già detto Sanzio. Quel Cineca, tra l'altro, oltre che essere un patrimonio per il sistema pubblico, perché i dati lì, ma il Cineca si convenziona col sistema privato. E dà la possibilità di, a domanda, a richiesta, di dare una risposta al sistema economico, alle imprese piccole e grandi, anzi uno dei driver a cui avremo bisogno di aiutare, di avere degli acceleratori, di fare, vuol dire, avere anche la piccola impresa che va lì, si relaziona, sarà un luogo aperto e prima di tutto è un luogo pubblico che si relaziona e si integra col sistema privato. Qui ci sono teste pubbliche, quello è un luogo pubblico, a disposizione di un sistema integrato e della crescita democratica del nostro Paese. E poi cosa avremo? Avremo il CNR, che sarà uno dei più grandi studi sui materiali. Hai ragione. questa regione ha un'esperienza sui materiali, i materiali cambieranno la storia del sistema produttivo, del sistema manifatturiero. Lì il CNR entreranno lì e insieme, utilizzando l'intelligenza artificiale, quei dati, Enea, saranno un tutt'uno anche per andare in quella direzione. E poi, adesso, questo assessore ha anche il compito di guardare gli appalti perché poi voi uscite le teste ma avete bisogno anche degli strumenti e dei contenitori. Vi comunico che ieri il Consiglio dei Ministri ha nominato il professor Cacciamani. Cacciamani è il professore di Arpae che segue, vuol dire, responsabile del settore meteo di Arpae, direttore dell'Agenzia Meteo Nazionale. Lo sapevate che eravamo l'unico Paese in Europa che non aveva un'agenzia meteo civile? No, perché non lo sapevo nemmeno io. Oggi abbiamo l'agenzia meteo, c'è lo statuto, c'è il regolamento, c'è lo stanziamento di bilancio, il direttore chiudeva il cerchio per farla nascere, non avevamo un'agenzia meteo, l'agenzia era quella dell'aeronautica, ma l'agenzia dell'aeronautica non si può convenzionare con autostrade, con ferrovie dello Stato per fare operazioni, per fare controllo, per fare, vuol dire, dare informazioni, per essere un soggetto aperto che si relaziona a avere l'agenzia nazionale meteo è un altro fatto di valenza paese. E in più, l'appalto che faremo, a breve, adesso, consegneremo, abbiamo chiamato il palazzo che candidiamo, palazzo, ma di grande idea, tra l'altro lì anche un recupero dell'ingegner Nervi, quindi anche un recupero, una sede bellissima, sarà aperta, guardate, abbiamo buttato giù la cinta perché deve essere aperta, deve essere visibile, deve essere a disposizione, una città nella città ma visibile, e lì quella palazzina che nascerà, uno studio di una società d'Hamburgo insieme a una società di Milano anche dal punto di vista architettonico, quel palazzo lo candidiamo per avere l'Università dell'ONU, l'Università dell'ONU, ce ne sono dodici in tutto il mondo, noi abbiamo candidato e abbiamo già fatto la struttura scientifica col MAECE, lì si discute con tra o quattro ministeri, voglio dire abbiamo rapporto diretto con ambasciature cose incredibili e hanno già depositato a Tokyo il comitato il progetto scientifico molto bello, sapete perché abbiamo candidato quel luogo sull'abito otomano, quindi sullo studio dell'abito otomano, quindi molto confacente con i temi che abbiamo discusso qui, perché qui abbiamo l'Università più antica del mondo e quella candidatura è molto in sintonia rispetto alla traiettoria e la storia dell'Università più antica del mondo, ce la giochiamo, ma è un fatto, sarebbe un fatto incredibile, provate a immaginare in quel contenitore quante cose e quante teste possono arrivare, guardate lì nei nostri calcoli, mi sembra che si è uscito anche un articolo nei giorni scorsi, ma è la verità, noi abbiamo calcolato che regime noi potremmo avere 1500 teste intanto per trattenere i nostri, di tutte ovviamente accademie di Italia nostre in giro per il mondo, guardate che cambia la città, è un luogo che essendo già Bologna la nostra regione è molto multiculturale, ma provate a immaginare il salto di qualità anche di multiculturalità accademica, di relazioni e poi attorno ci sono servizi e quindi tanto lavoro. Ecco, questa è la strategia che come Regione Miglio-Romagna stiamo portando avanti, ma è una strategia indispensabile, non abbiamo altra strada, noi dobbiamo andare in quella direzione, ma abbiamo anche teste e ci mettiamo anche risorse per andare in quella direzione. Grazie. Grazie. Bene, grazie, grazie davvero anche all'assessore Colla, penso che sia stata diciamo una discussione che ci ha dato l'idea davvero di quali siano le potenzialità e anche le sfide che riguardano questo ambito, in particolare per questo territorio, ma poi ovviamente anche più in generale per tutto il sistema paese. E a questo punto non so se c'è qualche domanda dal pubblico, altrimenti possiamo avviare. Abbiamo abbiamo la domanda, perfetto. Si sente? Sì. Grazie. Io ho una domanda abbastanza rapida e semplice, fa certamente parte della tradizione di governo dell'Emilia Romagna la pratica di fare sistema di cui si è parlato, di cercare di coinvolgere i diversi attori presenti sul territorio secondo le loro rispettive competenze, i loro rispettivi ruoli. La mia domanda però è dal momento che non è detto che ci sia e tante volte in effetti non c'è una convergenza naturale di interessi fra i soggetti pubblici e gli attori privati. Come fa il pubblico ad assicurarsi di continuare a guidare la via senza essere per così dire catturato dal privato? Come ci si assicura di seguire la giusta rotta in questo? Grazie. Grazie. Ci sono altre domande così le raccogliamo tutte e poi rispondiamo insieme. c'è un'altra domanda in prima fila. Tutti questi sistemi hanno una grande complessità tecnologica con grandissime ricadute sull'economia sulla società quindi anche sulla sicurezza di una comunità dal punto di vista della cyber security della protezione di di questi strumenti dal grandissimo impatto. Qualcosa si sta lavorando a qualcosa anche su questo? Bene se c'è un'altra domanda ne prenderei un'altra eventualmente altrimenti passiamo alle risposte. Va bene allora vogliamo iniziare dalla professoressa Cucchiara. Io rispondo al massimo sulla seconda perché sull'aspetto diciamo del pubblico e privato sicuramente può rispondere l'assessore ma su questo però faccio una battuta io lavoro nel pubblico perché sono in università pubblica ma quando noi facciamo delle scelte in questa regione almeno nella nostra tradizione lo facciamo sempre lavorando col privato lavorando assieme quando a Modena abbiamo definito il nostro centro di AI ormai da 7-8 anni che adesso avrà anche l'edificio nuovo dove l'abbiamo fatto assieme a Confindustria anche se abbiamo avuto finanziamenti della regione e quindi secondo me il dialogo è la prima cosa importante per non farsi catturare ma avere davanti degli obiettivi poi l'obiettivo la fa la politica ma la politica poi siamo tutti e siamo anche nel momento in cui in un'università decidiamo di fare delle scelte per lavorare per il nostro territorio anziché lavorare magari per altri temi estremamente interessanti ma che non hanno una ricaduta diretta sul stesso territorio ma tutta stupida però a me piacerebbe magari fare oceanografia però non avrebbe molto senso farla in una città come Modena Reggio Emilia c'è l'università di Modena Reggio Emilia in Emilia Romagna dove magari l'oceano non ce l'abbiamo vicino anche se è una cosa bella quindi anche per noi vuol dire in qualche modo è vero che la nostra ricerca è libera però capire che dobbiamo fare qualcosa che serva direttamente a noi e alle nostre generazioni future una parola per la cyber ma poi magari anche Michela risponderà non abbiamo mai parlato perché anche a livello di strategia italiana si è più avanti nel mondo della cyber di quanto non lo sia nel mondo dell'AI non perché si è più avanti tecnologicamente ma perché per esempio è stata fatta da poco l'agenzia fisica l'agenzia della cyber Roberto Baldoni la guida e ci ha studiato e ci ha lavorato per tanto per un caro amico professore dell'università della sapienza allora abbiamo un rapporto diretto tra cyber ed intelligenza artificiale perché da una parte i nostri strumenti servono alla cyber io collaboro con loro per aspetto di formazione tante volte perché hanno bisogno dei nostri strumenti e viceversa noi abbiamo assoluto bisogno della cyber nel momento in cui le nostre tecnologie e i nostri dati diventano così importanti che devono essere protetti ed è il motivo per cui quando noi lavoriamo nei nostri sistemi e quando suggeriamo alle aziende di lavorare su questi dati la dimensione della sicurezza è estremamente importante già è importante che tutto questo non vada fuori perché vi faccio un esempio concreto poi lascio restare la maggior parte di telecamere a basso costo che in questo momento si utilizzano in Italia compreso qua a Bologna tra l'altro sono di tecnologie cinese che sono collegate direttamente c'è stato su report un servizio poco tempo fa però a parte il servizio di report che è reale il fatto che i nostri dati direttamente siano controllati in internet che sia poi la Cina o sia un altro paese non importa però dall'estero secondo me è un problema reale che deve essere affrontato subito cioè non ha senso che i nostri dati non possono essere elaborati da noi stessi mantenuti da noi stessi in modo sicuro ed è il motivo per cui forse su questo poi passo la parola direttamente a Sanzio anche Cineca stesso sta facendo dei lavori molto importanti per porsi in sicurezza in tutto questo Cineca è all'interno del cosiddetto perimetro strategico della sicurezza nazionale dunque tutti i criteri di accesso sono intercettati da quelli che sono delle applicazioni specifiche che filtrano l'ingresso quindi sì la risposta è sì dopo di che c'è supporto a quello che è l'attività relativo a quello che è le metodologie di supporto alla cyber security per quello che riguarda gli aspetti di critografia che poi vengono utilizzati per generare chiavi di accesso e quant'altro però dal punto di vista fisico il Cineca sta all'interno di quello che è il perimetro della sicurezza nazionale dei dati rispondiamo a quello che è in questo momento l'agenzia che è stata generata e il filtraggio per l'ingresso è filtrato mediante applicativi di firewall che in qualche modo filtrano e verificano che gli ingressi avvengono in modo puntuale devo dire che in realtà c'è una intensità di attenzione relativamente per esempio gli aspetti relativi a quelli che sono stati le attività di ricerca sul covid ci sono stati gli attacchi internazionali su tutti i sistemi di supercalcolo in Europa particolarmente violenti da questo punto di vista e anche particolarmente impattanti insomma quindi abbiamo dovuto in alcuni momenti ridurre quello che era la capacità di accesso perché in qualche modo la quantità di tentativo di intrusione che era presente era tale per cui come dire i sistemi di firewall erano sotto pressione quindi abbiamo dovuto ridurre la capacità di eccesso da questo punto di vista il prossimo sistema tecnopolo sarà ulteriormente inserito in questo contesto vi faccio due esempi però al di là di questo semplicemente rispetto alle ricadute perché secondo me sono carini e sono particolarmente interessanti citava prima l'assessore Colla Carlo Cacciamani dunque in Italia non c'è servizio meteorologico civile non c'era è stato appena istituito e Carlo Cacciamani di Arpaia è diventato direttore in realtà quello che capita è che l'unica regione che aveva un servizio meteorologico era la regione Emilia Romagna e d'altra parte la regione Emilia Romagna ha sussidiato con un finanziamento diretto rispetto al quale non so come dire quindi pagando un servizio dedicato che veniva svolto al Cineca per motivi come dire di prossimità nel senso che il Cineca che viene svolto al Cineca che è tuttora operativo nel senso che per fare meteorologia operativo occorre il supercalcolo quindi questa prossimità che ha sussidiato il servizio meteorologico della protezione civile dagli anni settanta in poi non so come dire che a questo punto transiterà finalmente nel servizio meteorologico nazionale rispetto al quale quindi l'agenzia Italia Meteo il fatto che Carlo Cacciamani sarebbe stato uno scandalo non fosse avvenuto non so come dire andavo a Roma a rendere evidente che non so come dire non c'era nessun'altra persona ma sai con la politica bisogna sempre tenersi un po' a beneficio di inventario perché non si sa mai sì sì adesso dico solo che non potevano essere così la seconda cosa che volevo dire rispetto a quello che è la ricaduta nei confronti di quello che è il sistema delle piccole e medie imprese che è un aspetto particolarmente importante dunque quello che capita è che nell'ambito di quelli che sono i finanziamenti più generali sul tema di performance computing a livello europeo c'è un'azione specifica che ha a che fare con il centro di competenza per live performance computing a supporto delle azioni verso il sistema delle SMEs quindi sono soldi specifici come dire verticali nella fattispecie i partner che hanno portato questo progetto sono Cineca Associazione Big Data e Fondazione IFAB che diciamo non per caso capita che in un qualche modo hanno rappresentato un finanziamento puntuale per sopportare in termini economici proof of concept per l'utilizzo dei metodi di high performance computing Big Data e artificial intelligence nei confronti del sistema dell'SMIS associati a quelli che sono i progetti come dire dello stesso segno che vengono finanziati dall'iniziativa della fondazione IFAB grosso modo in questo momento sono attivi ordini di grandezza 15-20 progetti con soggetti piccole e medie imprese in una sorta di triangolo dove una piccola e medie imprese al problema una competenza accademico-scientifica mette la soluzione metodologica e un'azione di come dire consolidamento della soluzione quindi di diciamo gestione operativa in modo tale da inserire la soluzione nella filiera di produzione viene trasferita da questo punto di vista Cineca e INFN sono i due partner che agiscono in questo senso quindi questo triangolo con finanziamento diretto diretto per il sistema dell'ESMIS che credo che sia un elemento importante questo è una filiera a proposito di filiere di finanziamento su cui faremo evidentemente presidio in modo tale da renderlo persistente totalmente dedicato al sistema dell'ESMIS La professoressa Milano vuole aggiungere qualcosa microfono no sì io ovviamente rispondo invece solo alla seconda domanda oltre alla cyber security c'è la security nel senso che una cosa molto importante che l'intelligenza artificiale può fare al di là del fatto ovviamente che concordo con quello che ha detto Rita Sanzio sulla sicurezza di questi sistemi eccetera è il fatto che l'intelligenza artificiale ci possa aiutare a rendere più sicure le nostre la nostra società quindi le città ci può aiutare per esempio non so a fronte di disastri naturali a costruire piani di evacuazione nelle città ci può aiutare a studiare lo stato di salute delle infrastrutture critiche dei ponti di elettrodotti qualunque infrastruttura critica può essere monitorata tramite sensori e si può capire quando diciamo la sua salute sta iniziando diciamo a scricchiolare o quando deve essere mantenuta quando deve essere invece demolita o qualunque altra cosa ed inoltre c'è anche tutta la questione per esempio dello studio dei social e di tutte le conversazioni che avvengono pubblicamente sui social per prevenzione di attacchi terroristici prevenzione di attacchi diciamo in generale criminali quindi c'è effettivamente tutta una parte che riguarda la sicurezza non la cyber security ma la sicurezza delle nostre infrastrutture della nostra società delle persone che in qualche modo può essere supportata di nuovo dall'intelligenza artificiale grazie e l'assessore la prima domanda avete lasciato a me ma adesso guardate questa regione ha un'impostazione che è l'impostazione del sistema integrato sapendo che non c'è un privato forte se non c'è un pubblico forte e viceversa questo è il punto non dobbiamo avere il timore guardate il tecnopolo è tutto pubblico il super computer Europa Enea pubblico Cineca pubblico l'università dell'ONU se arriva pubblica agenzia meteo pubblico ma se tutto quel pubblico non si relazionasse con l'esterno con le filiere delle piccole imprese con le grandi imprese con i soggetti guardate c'è un grande investimento che sta arrivando in questa città della Filimmosi che porterà il suo centro di ricerca il suo centro di ricerca del mondo lo porta a Bologna sapete cosa mi ha detto sì però io posso dialogare col Cineca perché se io porto qui 300 ricercatori voglio sapere se c'è un'operazione di dialogo con l'università col Cineca con l'intelligenza artificiale altrimenti non arriverebbero quindi adesso non so se ho capito bene la tua domanda ma ti dico quello che vogliamo fare noi noi siamo per il sistema integrato dove il pubblico ha la sua autonomia la sua forza ma quella forza è a disposizione per creare lavoro di qualità lì dentro mi sono dimenticato metteremo anche abbiamo fatto l'accordo con il ministero del lavoro anzi verrete anche coinvolte perché il tema intelligenza artificiale impatto sul lavoro un grosso investimento nel ministero del lavoro pilota per capire anche l'impatto sulla gente che lavora non solo sull'impresa ormai siete dell'icone che dovete essere in continuazione utilizzate e quindi questo è il nostro sistema ma devo dire che sta anche funzionando è una cosa che un grande finanziamento che come regione faremo anche sugli enti locali sulle nostre città anche sulle università è che questa tecnologia deve entrare anche nella cultura nelle competenze negli investimenti dei settori pubblici non può esserci un soggetto privato molto forte e un soggetto politico un ente locale o un'università che non può avere queste tecnologie alziamoci tutti che riusciamo a prendere le ciliegie e le in alto altrimenti ci resta solo il taglio dell'erba e non è l'esercizio migliore per questa regione sistema integrato governato e autonomia del pubblico bene grazie grazie a tutti i nostri relatori grazie a voi siamo arrivati proprio alle alle 11 dobbiamo dobbiamo chiudere però mi sembra che sia stato un dibattito davvero ricco e interessante che ci abbia permesso di entrare meglio dentro queste questioni e spero ovviamente che anche in futuro ci saranno altre occasioni per dialogare con tutti gli interlocutori di questa serata ringrazio di nuovo Fondazione IFAB ringrazio anche Sanzio Bassini ovviamente anche la direttrice Adele Del Bello e vi auguro a tutti una buona serata grazie a tutti grazie a tutti Grazie.